Mi chiamo Daniele Furlan, ho 49 anni, e abito a Ponte di Piave, seleziona Ponte, testo con maiuscola. Oggi è il 29 marzo 2012, è un giovedì e la giornata è molto bella perché c'è il sole ed un clima primaverile inusuale per questa stagione. Punto. Gli ausili per il computer sono diversi in base al tipo di lesione che ha l'utilizzatore. Ovviamente un paraplegico che ha conservato l'uso degli arti superiori, quindi delle mani, non ha bisogno di alcun ausilio. Mentre invece, quando la disabilità colpisce anche gli arti superiori, oppure colpisce la voce, inibisce la voce e anche i movimenti del capo, si passano agli ausili per computer attualmente a disposizione. Il primo problema che l'utilizzatore del computer deve risolvere è il problema di muovere il mouse. Per questo esistono dei cosiddetti emulatori di mouse. Gli emulatori di mouse si basano su un principio fondamentalmente. È un piccolo strumento che viene posto in prossimità della webcam e invia un raggio sulla fronte dell'utente. Sulla fronte dell'utente viene appiccicato un bollino, un adesivo circolare, che riflette questo raggio verso lo schermo del computer. Muovendo lentamente il capo, quando si ha questo bollino, che normalmente viene fissato sopra il naso, al centro degli occhi, io riesco, si può riuscire a raggiungere tutta la superficie del computer. Poi questi sistemi sono anche corredati di un software che permette appunto, una volta raggiunto il punto su cui si vuole operare, di simulare il clic semplice, il clic doppio, il clic destro, il trascinamento, eccetera. I sistemi naturalmente sul mercato sono di questo genere, sono il Tracker Pro, che è uno strumento americano, che è il più rodato e il più collaudato, però ha anche il difetto di essere molto costoso. Poi c'è lo Smart Nav, che è stato creato in seguito, è meno collaudato del Tracker Pro, ma non per questo meno efficiente, ed ha dalla sua, che è molto più economico, perché costa meno della metà del Tracker Pro. Poi c'è un sistema nuovo, che hanno inventato un gruppo di diseggatori spagnoli, che si chiama Empatia. Più o meno si basa sullo stesso principio degli altri, però ha il vantaggio di essere accessibile quasi a tutti, perché ha un costo abbastanza limitato. Nei casi più gravi, cioè quando la disabilità colpisce anche i movimenti del capo, oppure inibisce la voce, si possono utilizzare altri due strumenti. Uno è uno strumento che si è detto Integra Mouse. L'Integra Mouse praticamente è una specie di soffietto, che viene posto vicino alla bocca dell'utilizzatore, e l'utilizzatore, facendo una leggera pressione sulla boccuccia del soffietto, può indirizzare il mouse verso tutta la superficie del display del computer. Poi, ispirando dentro a questo soffietto, può simulare il mouse destro oppure il mouse sinistro. Un altro sistema, che è quello che utilizzo io, è il sistema dell'Easy Mouse. Ovvero, per utilizzare questo sistema, bisogna avere una carrozzina elettrica che sia compatibile. L'Easy Mouse è uno strumentino, che viene collegato a una porta USB del computer. Dopodiché, quando uno si avvicina con la carrozzina elettrica, nel mio caso una Permobil, l'Easy Mouse, tramite un muraggio infrarossi, dialoga con il computer della carrozzina. Per cui, il joystick, nel mio caso il joystickamento che io adopero per spostarmi lungo tutta la casa, lungo tutto il perimetro della casa, non diventa più uno strumento per il movimento della carrozzina, ma diventa uno strumento per muovere il mouse. Un altro sistema, che è quello che viene utilizzato nei casi proprio di lesione midollare molto alta, oppure di SLA o atrofia in stato avanzato, è il sistema a controllo oculare. Cioè, viene piazzata, più o meno in prossimità della webcam, una telecamerina che registra i movimenti delle pupille e i movimenti delle palpebre, e riesce a trasformare questi movimenti in movimenti del cursore del mouse sul display del computer. Il secondo problema da risolvere, dopo aver risolto il problema del movimento del mouse, è quello della scrittura, ovvero della scrittura delle lettere nel computer o della letteratura di un testo. Cosa accade? che non potendo, in questo caso, digitare sui tasti della tastiera, si adopera o una tastiera virtuale che appare sul display del computer, per cui quei movimenti del cursore del mouse che abbiamo detto prima, che abbiamo descritto prima, si digitano le parole lettera per lettera. Naturalmente queste tastiere virtuali sono dotate di uno strumento tipo il T9, dei telefonini, per cui dopo aver scelto le prime due lettere dell'alfabeto propone tutta una gamma di parole che sono le più comuni che cominciano con quelle due lettere. Per cui semplifica e rende molto più veloce l'operazione, che altrimenti sarebbe lunghissima. Un altro sistema è il dove è possibile, cioè dove il disabile non abbia perso l'utilizzo della voce, è il comando vocale. Ne esistono vari tipi. Il comando vocale più diffuso è il Dragon Naturally Speaking, che è quello che uso anch'io e che mi permette di fare, di dettare tutti i testi che voglio il computer con una velocità che è quasi superiore a quella di teledigitazione di un utente preparato ed esperto. Fin qui abbiamo parlato di disabilità motorie, la soluzione di problemi di disabilità motorie. Esistono però anche delle disabilità sensoriali, come la ciscità o l'ipovedenza. In questi casi, oltre ad avere delle tastiere, delle stampanti, dei fax con i tasti in braille, esistono anche dei programmi, che sono dei sintetizzatori vocali, che permettono appunto di riprodurre la parola che la persona non vedente sta digitando, oppure il testo che appare nella videata che l'utilizzatore sta utilizzando. Un cenno particolare, secondo me, va fatto anche allo sviluppo di quello che sono gli audiolibri. Perché nei casi di una lesione molto alta o di una ipovedenza, esistono delle banche dati, delle vere e proprie biblioteche, dove si possono, naturalmente dopo aver presentato il certificato di invalidità o di cicità, scaricare gratuitamente degli audiolibri che poi si possono tranquillamente ascoltare con calma. Questo è un lavoro che viene effettuato grazie all'apporto dei volontari speciali che si chiamano donatori di voce. È proprio grazie a questi ausili per computer che io sono riuscito a scrivere anche un libro che si chiama Il mio podere, i cui diritti d'autore vanno devoluti interamente all'associazione La Colonna. Probabilmente tutti gli ausili che io ho descritto velocemente prima, mentre sto parlando, sono già obsoleti, perché vengono continuamente inventate nuove tecniche. Una tecnica di sperimentazione in questo momento è quella che ponendo un caschetto sulla testa dell'utente si può riuscire anche a captare gli stimoli celebrali che questo ha per trasformarli in comandi del computer. È un settore che è in continua evoluzione ed è un peccato che in Italia si faccia poca ricerca in questo campo.